I signori che sono più presenti e con la loro presenza sicuramente danno un grande significato a questo incontro perché se è vero che esiste l'armonia della coppia, dalla diversità, ecco, nasce poi quell'equilibrio che rende sicuramente più forti anche le idee. E questo perché? Non è politica. Oggi questo credo sia contrario assolutamente, oggi la bellezza ha la sua importanza.